Ecco l'entrata in campo delle due finaliste della categoria giovanissimi di questo terzo Memorial, Massimo Scalinci. È la terza giornata di questo corneo, agli ordini la terna arbitrale ufficiale, si contengono la finale, la Renato Curi Angolana con la maglia nero-azzurra e la Virtus Castelfrenzano con la classica maglia giallorossa. Ecco si schierano, adesso c'è l'inno di Mameli, schieratevi. Più avanti, potete mettere qualche passo più avanti. Più avanti, più avanti, ok. Due in ginocchio e uno è quello, due in ginocchio e uno tira. Adesso l'inno nazionale di Mameli, tutti i piedi per questa finale. Tutti, tutti. Più avanti, tutti i piedi per questa. Un'anima di fatto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E allora ci siamo, categoria giovanissimi, Renato Curi-Angolana, Sorrentino, Demenico, Eccolo i barbini!